Vaccini, screening e l'attivazione della stanza degli abbracci. Un nuovo luogo d'incontro per permettere il contatto tra ospiti e familiari. È questo il quadro di azioni intraprese dalla Residenza Protetta Casa Aura per contrastare la pandemia da Covid-19. Dopo le cicatrici lasciate dalla prima ondata, per la struttura sono state introdotte rigide misure di sicurezza, che prevedono uno screening destinato al personale e ai 50 ospiti, con test antigenici ogni due settimane e un percorso di isolamento per gli eventuali casi positivi. In partenza anche la campagna di vaccinazione. Stiamo raccogliendo i consensi del vaccino Moderna in stretta collaborazione con l'Azur, perché probabilmente agli ospiti di Casa Aura, agli ospiti delle case di riposo, verrà somministrato il vaccino Moderna e quindi servono ulteriori consensi da parte dei familiari. Abbiamo avuto una riunione anche i giorni scorsi con il Comitato Parenti, che è stato informato su questo. C'è grande collaborazione con i familiari, insomma i parenti della struttura e con l'Azur. A questo proposito, su richiesta dei familiari, che c'era stata fatta anche nelle settimane scorse, abbiamo realizzato questa stanza degli abbracci dentro Casa Aura. Siamo molto contenti perché è stato il lunedì, sono stati dei momenti molto emozionanti, dove dopo tanto tempo c'è stato proprio un contatto fisico, grazie a questo spazio creato ad hoc, tra i familiari e gli ospiti della struttura. Quindi siamo contenti di avere accolto questa richiesta, che ci chiedevano già da tempo. La prima ondata è stata drammatica, è stata sicuramente, ci ha travolto, perché comunque non c'era il sistema di attenzione, non c'era tutto questo sistema di livello di socio-sanitario, di prevenzione, perché comunque eravamo a marzo, l'emergenza, il Covid non si conosceva in modo così completo o comunque adesso in modo così come si conosce adesso. Prima ondata quindi che ha visto casi di positività all'interno di Casa Aura degli ospiti presenti e invece qual è la situazione attuale? Attuale non ci sono ospiti positivi dentro la struttura, c'è stato qualche caso nelle settimane scorse, ma sicuramente con tutto il monitoraggio che dicevo prima, quindi con gli spazi appositi per l'isolamento, lo screening continuo, i tamponi somministrati per monitorare gli ospiti, ovviamente la presenza degli USCA, dei medici di medicina generale che fanno un lavoro straordinario dentro queste strutture, è sicuramente un grande valore aggiunto. Per adesso la situazione non ha positivi nella struttura, non ha ospiti positivi, quindi speriamo di partire presto con la vaccinazione, abbiamo avuto l'adesione dei familiari assolutamente completa, tutti i familiari hanno aderito per la vaccinazione degli ospiti, quindi speriamo di partire presto.